Tutto rimandato al 23 e 24 giugno prossimo nel capoluogo Lucano per conoscere quello che sarà il nuovo sindaco di Potenza. I 39.335 Potentini, che si sono recati nei 77 seggi cittadini, corrispondendo al 71,71% degli aventi diritto, non hanno infatti scelto al primo turno il successore di Mario Guarente, in quanto nessuno dei cinque candidati sindaco ha superato la soglia del 50% delle preferenze. Ragione per cui i due più votati, Francesco Fanelli, candidato del centro-destra che ha ottenuto il 40% delle preferenze, e Vincenzo Telesca, alle cui cinque liste a suo supporto hanno ricevuto il consenso e il voto del 32,5% degli elettori, si sfideranno al ballottaggio. Per quanto riguarda gli altri candidati, per Luigi Smaldone, appoggiato da tre liste, ha raggiunto il 17,8% delle preferenze, Francesco Giuzio, candidato della Basilicata Possibile, l'8,2%, mentre l'unica donna in corsa, Maria Grazia Marino, si è fermata all'1,25%. Il partito più votato è stato Fratelli d'Italia, con il 12,93%, seguito da Forza Italia, con il 12,80%. Buono il risultato della lista a supporto di Telesca, uniamoci per Potenza, che ha preso l'8,41% delle preferenze.